ciao a tutti e benvenuti sul mio canale insieme a voi per mostrarvi questo ciondolo in anteprima perché in anteprima perché farò il tutorial da poco iniziato una collaborazione con la bb infatti ho fatto il mio primo unboxing magari vi metterò giù nell'info box il link che riporta al video dove vi mostro i materiali che ho preso allora questa è la mia prima creazione per quanto riguarda questa collaborazione ovviamente dovrò fare il tutorial ma la volevo mostrare in anteprima è molto leggero ovviamente il ciondolo io penso di fare anche degli orecchini perché ne ho presi 30 pezzi di questi cerchi in legno e quindi diciamo non per variare farò anche degli orecchini questo è il ciondolo mi piace tantissimo questa volta ho agganciato una catena in alluminio corta faccio vedere un attimo solo così e poi queste catenelle scusate i rumori al solito ma sono sul terrazzo ho fatto questa incastonatura e poi mi faccio vedere poi ho messo questa cucina in cristallo questi spezzoni di catena sempre in alluminio con degli anelli in acciaio questo viene ovviamente a gola mi è piaciuto di farlo così spero che vi piaccia a tra poco con il tutorial un abbraccio a tutti